Io continuo, cioè io non riesco a capire l'arroganza di queste persone, sto vedendo che, sapete che ormai la televisione il 50% sono diventati programmi dove invitano tutti quelli della politica, la politica è un'altra cosa, vabbè, tutti quelli che sono intrufolati in quel palazzo, tutti quelli che mangiano intorno, che bla bla, sono tutti lì a criticare sto nuovo governo, governo qua, governo là, ma che cazzo avete fatto voi fino adesso? Avete rovinato un paese, cazzo, avete rovinato, dovete vergognarvi e poi abbiate un po' di coglioni, state zitti, zitti e lasciateli lavorare. Hanno iniziato tre giorni fa, già c'è qualcuno che dice non stanno facendo niente, ma vergognatevi, vergognatevi.